Il big match dell'undicesima giornata nel campionato di Serie C va al basket San Vincenzo che spugna il palasporta estra con il punteggio di 69 a 63 agganciando così gli amaranto al primo posto della classifica assieme al CMC Carrara che ha vinto largamente contro Prato. Ad inizio gara l'Amen prova a imporre il proprio ritmo allungando fino al 20 a 14 del primo quarto poi con il passare dei minuti San Vincenzo ha preso in mano il controllo della gara cominciando a innescare i propri lunghi. Per innestolfi puniscono la difesa amaranto firmando il primo sorpasso ospite 27 a 28 al quarto d'ora. La Sba rimane stordita dagli avversari non riuscendo a ritrovare in attacco la giusta fluidità per mettere in difficoltà la miglior difesa del campionato. All'intervallo dopo un parziale di 23 a 13 San Vincenzo è avanti 37 a 33 al rientro dagli spogliatori l'Amen rimane in scia agli avversari ma non riesce a dare la zampata per riagganciare la squadra di coach Baroni. San Vincenzo gioca bene in attacco sfruttando il lavoro di Roberti dentro l'area pitturata ben servito dai compagni mantenendo in difesa un'aggressività che non permette alla Sba di ragionare. Nonostante vari tentativi gli ospiti rimangono sempre in vantaggio. Corzani mette dentro due canestri preziosissimi allo scadere dei 24 secondi togliendo fiato alla possibile rimonta amaranto. Le difficoltà dell'Amen al tiro da fuori alla fine 1 su 22 da tre punti per la squadra di coach Delia complicano ulteriormente la situazione. Quando Roberti mette dentro la tripla del più sette a due minuti dalla fine la gara è di fatto chiusa. La Sba prova un ultimo scatto d'orgoglio ma i tiri che potevano riaprire la gara finiscono tutti sul ferro. Il punteggio finale di 69 a 63 da il giusto valore a San Vincenzo che ha conquistato meritatamente il successo ma non penalizza una volenterosa Amen che ha provato in tutti i modi a rompere il ritmo agli avversari. Adesso il campionato osserverà un turno di riposo prima delle ultime due giornate che stabiliranno la griglia playoff. Intanto però l'Amen ha raggiunto due risultati importantissimi. Il primo quello di aver riportato tanto pubblico sui gradoni del Palasport Estra che con San Vincenzo ha dato un colpo d'occhio davvero importante. Il secondo non di poco conto che a due giornate dalla fine gli Amaranto hanno conquistato uno dei primi tre posti della classifica. Un risultato che dà lustro a tutta la stagione della squadra di coach Delia e che ad inizio stagione non era certo preventivabile neanche dal più ottimista dei sostenitori Amaranto. Per la seconda volta abbiamo visto il palazzetto pieno. Questa è una risposta che mi dà veramente una spinta enorme perché vedere tante persone di Arezzo che io non sapevo che magari gli piacesse la palacanestro quindi vederle qua mi ha fatto veramente piacere. Quindi significa che stiamo lavorando bene anche a livello mediatico per la città. Poi per quanto riguarda la squadra anche qua parrà strano che quando uno perde ringrazia. Però secondo me se mi avessero detto all'inizio del campionato che noi contro una squadra con questi signori giocatori noi ce la giocavamo fino all'ultimo minuto sinceramente non ci avrei scommesso neanche un centesimo. Se poi guardiamo il fatto che la gara di andata ne abbiamo presi 30 fuori casa e qua quasi quasi ce la potevamo mettere in tasca onestamente mi fa ben sperare perché ripeto stiamo crescendo e non calando. Poi ovviamente hai detto bene cioè la favola come abbiamo sempre detto noi dirigenti cioè noi stiamo vivendo una favola stiamo vivendo una favola che siamo ai vertici di un campionato che è fatto con ragazzi fatti in casa contro i loro professionisti che sono scesi insomma anche di qualche categoria per giocarsi questo campionato quindi è anche giusto da un certo punto di vista che qualche volta gli altri vincano.